Professor Zannini, può descriverci brevemente qual è stato l'iter che ha portato prima la proposta e poi al conferimento della laurea a Gianfranco D'Aronco in Italianistica? L'iter è stato l'iter ministeriale per cui una proposta, una commissione che ha esaminato la candidatura, vari voti, per cui è una procedura abbastanza complessa che non ha trovato assolutamente alcun intoppo perché è un riconoscimento dovuto, direi quasi naturale, forse è arrivato un po' tardi ma comunque il professor D'Aronco sta benissimo e siamo molto contenti di averlo qui questa mattina per questa importante laurea onoris causa. Nel suo saluto lei sottolinea l'eclettismo di questa figura, la poliedricità di un intellettuale, però ha nulla a che vedere con la tutologia? Sì, è una figura un po' di studioso che ha affrontato vari campi con una multidisciplinarità che adesso è difficile trovare nei professori universitari che era tipica di un certo momento di espansione, di fortuna della cultura friulana, però in ogni campo che ha toccato il professor D'Aronco ha dimostrato la scientificità una competenza veramente di livello eccellente e questo lo rende una delle figure più rappresentative in assoluto della cultura friulana di tutto il Novecento, penso vicino ai nomi di Leicht e di altri grandi studiosi della cultura e della storia del Friuli e della lingua perché soprattutto pensiamo per esempio i suoi contributi alla letteratura friulana rimangono tuttora fondamentali e i più importanti a disposizione.